Più di 3.500 soggetti rei di non aver effettuato il pagamento delle tasse, circa 400 persone arrestate in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, è qualcuno dei numeri che emergono dalla bilancio operativo della 2020 della Guardia di Finanza, pubblicato in occasione del 247esimo anniversario di Fondazione del Corpo. Dando uno sguardo alla documento, si nota come nell'anno contraddistinto dall'avvento del Covid siano state denunciate 10.264 persone con 308 arresti per 7.303 reati fiscali. Sempre durante la 2020, le Fiamme Gialle avrebbero eseguito 1.340.000 controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia. 800.000 gli interventi ispettivi all'interno del bilancio operativo dell'anno passato spicca però un altro aspetto tutt'altro che positivo, ovvero i tantissimi lavoratori nero e regolari nel 2020 più di 19.200 in quanto alla spesa previdenziale che va dagli assegni sociali alle pensioni di guerra, sarebbero state invece accertate e regolarità per oltre 28 milioni di euro. Se il valore dei beni sequestrati per reati in termini di imposte dirette IVA si attesterebbe sugli 800 milioni, le proposte di sequestro tuttora al vaglio di magistrati sarebbero pari a 4,4 miliardi di euro. A proposito di coronavirus, in merito ai controlli contro le frodi sui beni per contrastare l'emergenza sanitaria, sarebbero state denunciate 1.347 persone capaci di effettuare azioni illegali come truffa, falso e ricettazione.